L'amministrazione comunale di Momo ha deciso di creare un canale WhatsApp dove pubblicare avvisi e notizie relative al comune. Il canale sarà utilizzato anche air comunicazioni di eventuali emergenze. Questo nuovo mezzo non sostituisce i canali ufficiali come il sito internet del comune di Momo. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno. Gioielleria Rossi, il nuovo negozio in via Briona a Domodossola.